Premiazione del concorso di Sant'Egidio, siamo con l'Avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, nonché candidata al Consiglio Comunale con la lista bene comune a sostegno del candidato sindaco Piero Bitetti. Una iniziativa per i più piccoli che vuole sensibilizzare gli stessi alla creatività artistica ma anche al raffermarsi di certi valori. Certo Luigi, è un concorso molto importante che si tiene ogni anno dove tutti i ragazzi delle scuole di Taranto sono chiamati ad esprimere la loro idea su questo santo tarantino. Sant'Egidio è un nostro santo, non potevo mancare sia come avvocato che come istituzione. Sono legata a questa chiesa da moltissimo tempo, ho abitato in questo quartiere, Don Luigi è il mio parroco da sempre, da quando era presso la chiesa di San Pio X, quindi lo conosco da tantissimi anni. Ho subito voluto dare un mio contributo con delle targhe e delle coppe per i ragazzi che hanno partecipato. È importante che le istituzioni siano vicino ai nostri bambini, ai nostri studenti che hanno espresso il loro amore per questo santo tarantino spiace, vedere che altre istituzioni non hanno ritenuto di partecipare. Perché noi dovremmo essere veramente tutti stretti intorno a quelle che sono le nostre tradizioni, siano anche legate ad un santo così importante come il povero frate, il frate nostro tarantino. Grazie a tutti.